Dopo la tragedia di Firenze non è più rinviabile una legge per l'accesso alla professione imprenditoriale nell'edilizia. Gli interventi introdotti fino ad oggi, non danno risposte concrete in un settore delicato e altamente esposto al rischio di infortuni. Per CNA bisogna in primo luogo introdurre una formazione obbligatoria per chi intende aprire un'impresa di costruzioni edili. Probabilmente l'edilizia è rimasto l'unico settore in cui si tratta di un'edilizia. Abbonati a soli 9,90€ all'anno! Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.